Compresse vendute come integratori alimentari ma di fatto contenenti molteplici principi attivi pericolosi sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Torino. Nell'indagine coordinata dalla Procura sono coinvolte alcune aziende strutturate all'estero, in particolare Spagna e Germania, con reti di distribuzione. Il marchio era la garanzia del prodotto destinato all'inconsapevole collettività. Coinvolta a sua insaputa una nota catena commerciale con decine di negozi sparsi in tutta Italia. Le analisi effettuate dal Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Torino hanno confermato la potenziale pericolosità degli integratori sequestrati importati per la maggior parte da Spagna ma prodotti in Germania. Commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell'esercizio del commercio, falsa indicazione di origine, ricettazione nonché produzione e commercio di sostanze dopanti e steroidee, i reati contestati dalle fiamme gialle.